Grazie, io sto per uscire, oggi è il primo maggio e volevo farvi vedere come ho deciso di vestirmi. Partiamo dal trucco e ho fatto una semplicissima linea di eyeliner e il rossetto rosso. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho indossato questa maglietta rossa che vi ho fatto vedere in un video haul, comprata da Berska. Questa qua. E sotto una gonna sempre comprata da Berska. Sopra questo giubbino di jeans. Con queste perline e sotto queste scarpe nere. Queste. E come borsa questa qui beige di Ujoo. Questo quindi è tutto l'outfit completo. Io spero vi piaccia, vi saluto, ciao!